E' terminata la partita del campionato allievi tra Real Cornaredo e Cometa di Colpo. Qua con noi Giorgio, mentre vediamo i suoi gol, chiediamole un commento sulla gara. E' stata una partita sofferta, dobbiamo pensare alla prossima gara e c'è stato un grande aiuto dai compagni e è fortunato. Grazie Giorgio per l'intervista, ci vediamo le prossime partite. Grazie a Forza Real. Ed ora siamo con il giocatore del Cometa, ma con noi Davide, mentre vediamo i suoi gol e le altre azioni e anche a lui chiediamo un commento sulla loro partita. Ciao Ivan, penso che questa partita sia, nonostante abbiamo perso, molto bella da vedere. Sono contento dalla prestazione dei miei compagni e anche della mia. Penso che alla prossima andrà meglio e spero nella prossima vittoria. Grazie Davide per l'intervista e ci vediamo le prossime partite. Ciao Ivan, forse a tutti da sempre. Grazie per l'intervista e ci vediamo le prossime partite.